gentili telespettatori buona giornata vi faccio una mia riflessione sulla manovra economica salvini dice che c'è accordo su tutto lui è d'accordissimo con la meloni su tutto non sarà che dopo che il corriere della sera con verderami ha svelato tramite delle informazioni che arrivano da fedelissimi da persone intorno a salvini che hanno raccontato al corriere della sera che più volte lui va da berlusconi pranzano cenano e fanno a gara a parlare male di meloni naturalmente lo racconta il giornale più importante italiano con uno dei giornalisti di politica più importanti come verderami naturalmente la meloni lo sa questo a dice ah hai capito come avevo fatto un patto con salvini staccati da berlusconi che vado a poi a realizzare le tue cose le tue bandierine e invece scopro tramite il corriere della sera che tu vai da berlusconi a sparlare di me sapete come fanno a tutti sarà capitato di aver avuto dei finti amici quelli che davanti ti fanno i sorrisoni e poi ti vanno a sparlare con gli altri a me è successo mi ricordo che io sono cresciuto sono cresciuto con credevo di avere un grande amico credevo io di avere un grande amico no ingenuamente o forse la speranza pensavo di avere questo grande amico si va in compagnia tutti in vacanza mi ricordo in tunisia nei primi anni 2000 e uno di questi mi prende da parte mi dice luca guarda che volevo dirti che quello là che tu credi un grande amico guarda che non è tuo amico no tu non sai quello che ti dice alle spalle non è tuo amico a a e pensate che io con questo amico questo amico ci sentivamo due tre volte al giorno due tre volte al giorno anche solo così ehi come va bene tu che fai no niente due tre volte al giorno quasi come fossero dei come fossimo dei fidanzati ogni totta ora dovevamo sentirci così anche se non avevamo niente da dire e poi scopro che questo che io che pensavo un grande amico compagno di scuola di quello mi dice stai attento guarda che non è un amico è non credere che sia un amico a credo che la meloni la meloni ha risposto ha risposto a questo ha detto ma io questa cosa qua l'ho già vista riferendosi al governo precedente quello dei migliori dove salvini e berlusconi continuavano così contro meloni facevano di tutto per ostacolare meloni e la sua crescita nell'elettorato lei dice ho già visto questo però adesso ha avuto la conferma da verde rami dal corriere della sera diverse persone hanno raccontato al corriere della sera proprio fedelissimi gente che hanno intorno magari camerieri magari non lo so però gente che lì che ha ascoltato che ha riferito si vedono e non fa e fanno a gara parlare male della meloni a ridacchiare di quello che ecco quindi quello che è successo a me che è successo più o meno a tutti di scoprire che poi di avere dei finti amici dei finti dei parenti che poi si rivelano dei serpenti no come quel bel film che io vi se lo trovate guardatelo su youtube si chiama parenti serpenti una bellissima fotografia degli anni 80 bellissima molto bella con tanti attori anche famosi del tempo ecco quando la meloni credo ascoltato quando ascoltato queste letto queste cose sul corriere avrà detto a salvini che doveva staccarsi da berlusconi io dovevo realizzare tutte le sue bandierine stoppa la fornero il volgare condono fiscale il contante magicamente queste cose sono tutte saltate dalla dalla finanziaria è una coincidenza la meloni ha detto a sì adesso ti sistemo io o è semplicemente perché non ci sono soldi e questo è una grandissima solo una grande coincidenza tra quello che si è scoperto che tra le cene tra salvini e berlusconi e questi e queste cose che sono uscite dalla finanziaria oggi salvini fa fa il conciliatore c'è accordo su tutto se azzerassimo iva sui beni di prima necessità sarebbe un bel segnale però i soldi non ci sono ha detto ha detto non ci sono c'è assolutamente accordo su tutta la manovra stiamo lavorando anche sugli altri tagli se riuscissimo ad azzerare l'iva sui beni di prima necessità e infanzia sarebbe un bel segnale più di così in questa situazione è difficile fare partendo da almeno 20 miliardi delle bollette di luce gas dice salvini stiamo lavorando giorno e notte sono contento perché stiamo raggiungendo obiettivi che ci eravamo prefissati come fermare la legge fornero no salvini tu avevi detto cancellare la legge fornero invece viene sospesa con una mini riforma delle pensioni solo per un anno quindi da cancellare la legge fornero a fare una mini riforma e sospenderla per un anno non è la stessa cosa la flat tax viene alzata solo per gli autonomi a 85 mila euro non c'è la flat tax per i dipendenti rottamare milioni di cartelle esattoriali da quello che dicono i giornali le cartelle esattoriali la rottamazione cioè un volgare condono sarebbe stato stralciato poi magari la meloni lo rimette e tagliare un po di sprechi del reddito di cittadinanza un pochino ecco caro salvini oggi che fai l'aziendalone sapete quelli che fanno gli aziendaloni di solito magari c'è qualche dipendente che viene scoperto ad essere magari uno che sparla dell'azienda improvvisamente fa l'aziendalone fa quello che che è con l'azienda che sostiene l'azienda a me è capitato tante volte al lavoro no dipendenti che vengono beccati o che si capisce che hanno dei comportamenti scorretti improvvisamente diventano degli aziendaloni no grande azienda bellissima i comportamenti un po da da coda di paglia a me questa dichiarazione di oggi fatta all'ansa andiamo d'accordo su tutto proprio prima della legge finanziaria quando meloni aveva detto stai dalla mia parte staccati da berlusconi che io ti aiuto con le tue bandierine e questo salvini di oggi alla vigilia dell'approvazione della finanziaria che diventa aziendalone che diventa tutto per meloni accordo su tutto quando si è scoperto che va da berlusconi a ridacchiare della meloni e insomma io poi mi chiedo ma tutti questi leghisti che continuano a votare per questo partito e per questo signore ma ascoltando le mie parole ma non gli viene un senso di non saprei neanche come dirlo ma non vi viene un senso un senso di inadeguatezza dice ma che sto facendo ma ma cosa faccio voto per questa roba qua grazie a tutti arrivederci